Ciao a tutti e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Antonio e oggi voglio farvi vedere come curare i nostri amichetti di acqua, le nostre tartarughe di acqua dolce, le mie sono due grappe, il maschio e quello sopra la prima. Scusate per se è più a fianco, vedete per se è veramente bello, è molto bello, è molto bello, l'alimentazione è molto varia, si possono dare i gamberetti, un occhio a settimana, carne macinata, la carne macinata fa male, ma invece non fa tanto male, si può dare una volta alla settimana, cosa vuoi dare anche il prodotto crudo, i gamberetti, i gamberetti, i gamberetti, i gamberetti, i gamberetti, l'isalata, la frutta, la pesca, la miele, la pere, questo è molto bello, bisogna usare una lampada riscaldante, che riscalda così, vedete calma, questa qua lampada non deve stare 24 ore su 24, ma deve stare 2 ore per far prevenzione, molti di voi nei commenti, ovviamente mi scriveranno, ma l'acqua è pochissima, ma non è vero, perché io, dovete calcolare ogni tartaruga, ogni tartaruga, ogni tartaruga è una cosa di acqua, con lei e il ruga, facciamo le problemi, dopo 1, 2, 3, ho bisogno anche 4, perché non cappia assai, bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, e ci vediamo al prossimo video, bye!